Qui Washington vi parla Webster Tarpley. Benvenuti a questa edizione della opposizione americana. Abbiamo avuto una svolta decisiva nella campagna elettorale per la Casa Bianca che è in atto qui. Avvenne nello stato di Wisconsin con la vittoria di Bernie Sanders su Hillary Clinton per i democratici e del senatore texano Cruz a scapito di Donald Trump per i repubblicani. Il margine della vittoria in entrambi i casi era di 13 punti, quindi erano risultati abbastanza decisivi. Pare che la maggioranza degli elettori votava contro un candidato giudicato il maggior male, vale a dire contro la guerra fondaia e portavoce della grande finanza di Wall Street Hillary Clinton e contro il colunquista di chiara marca fascista Donald Trump. La situazione complessiva ora risulta sostanzialmente cambiata per entrambi i partiti. Finora Trump aveva sempre visto davanti a sé un'aula gremita di tifosi entusiasti. Non più. Il sedicente carismatico è stato costretto a parlare davanti ad aule semivuote in un'atmosfera cupa e pesante. I reazionari tradizionali del Wisconsin a loro Trump non piace proprio, in parte perché lui non apprezza la loro ideologia liberista e il loro feticismo del mercato libero. Trump rimane cinico sfruttatore e manipolatore di sempre, che si vanta di aver comparato e corrotto tanti politici. Soprattutto i reazionari della radio hanno detto peste e corna di Trump. Il partito repubblicano locale ha dato il suo appoggio a Cruz, che si sarebbe trovato di casa nell'Austria clerical fascista di Dolfus. Cruz vuole infatti una teocrazia aggiornata. Trump ha anche fatto una lunga serie di gaff e di errori. Dopo le bombe del Belgio, Trump aveva dovuto fingere il ruolo di grande protettore, con una calma olimpica. Invece lui ha cominciato ad attaccare la moglie di Cruz, vulnerabile sì perché è una dipendente dalla famigerata Goldman Sachs. Lui però l'ha attaccata perché brutta al suo parere. Poi Trump ha teorizzato pene criminali per l'aborto, pene cioè per la donna. Poi il capo della campagna elettorale di Trump è stato arrestato per aver afferrato con un po' di violenza, una giornalista che insisteva per porre delle domande a Trump. Poi, dopo la sua sconfitta nel Wisconsin, Trump ha diramato un comunicato stampa pieno zeppo di insulti contro i suoi avversari, facendo vedere il suo volto di parvenu. Un salto in banco accorto se la squaglia dopo alcuni giorni. I vari trucchi di Trump divengono fin troppo conosciuti. Le sue trovate, una volta considerate geniali, divengono adesso noiosissime. La lunga campagna elettorale americana di un anno e mezzo rivela qui il suo lato positivo. Rende difficile il colpo di Stato a freddo, tanto peggio per Trump. Fra i repubblicani, le chance di Donald Trump di raggiungere la quota di 1.237 delegati, o voti che siano, al Congresso sono molto diminuite. Adesso Trump dovrà lottare in maniera accanita in New York, New Jersey, Pennsylvania, California, Oregon, Washington, fino a giugno e poi con intrighi e gustarelle fino al Congresso del partito che si svolgerà a metà luglio in Cleveland, nell'Ohio. Questo implica una serie di problemi gravissimi per il plurimiliardario. Quasi tutti questi delegati sono vincolati per legge a votare per Trump durante il primo valutaggio a Cleveland. Ma se nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta alla prima votazione, la tradizione secolare vuole che si passi alla seconda votazione e così via di seguito, finché qualcuno non avrà varcato il traguardo di 1.237 voti o delegati. Qui Trump non è d'accordo. Lui dice che bisogna dare la nomination a lui dopo la prima votazione, in cui lui avrà probabilmente la maggioranza relativa, la cosiddetta pluralità, ma non la maggioranza assoluta normalmente richiesta. E gli oligarchi del partito non intendono cedere. Quello che Trump teme è che molti dei suoi delegati saranno svincolati dopo la prima votazione. Non saranno più costretti a votare per Trump, ma potranno esercitare il loro libero arbitrio e votare per chiunque, anche Cruz, Kasich o qualcun altro che viene da fuori. Trump va avanti con le sue solite minacce. Un suo grande sostenitore mercenario e il famigerato Roger Stone, uno sperimentato provocatore e tirapiedi che lavora adesso per Trump. Roger Stone si dà da fare per intimidire questi delegati. Ha annunciato che lui conoscerà, lui saprà e renderà pubblico i nomi dei delegati ribelli o non leali a Trump, assieme ai numeri delle loro camere d'albergo. Stone già invita gli attivisti più pazzoidi, favorevoli a Trump, a recarsi a Cleveland per le somosse. È una minaccia pesante di vessazione o magari di peggio. Gli avversari di Trump adesso vogliono escludere Roger Stone dal congresso. Magari! Auguriamoci che siano le prime crepe della scissione, della spaccatura di questo mostruoso edificio repubblicano. Ormai due sono le possibilità. Trump potrebbe aggiudicarsi la nomination e diventare candidato presidenziale ufficiale del COP. In questo caso la distruzione dei repubblicani potrebbe essere quasi totale. Ogni senatore, deputato, governatore, consigliere pagherebbe, dovrebbe rispondere per gli oltraggi di Trump. Non solo la Casa Bianca, ma anche il Senato e persino la Camera dei Deputati potrebbero cadere in mano ai democratici. I repubblicani non potrebbero mai nominare i loro giudici fascisti alla Corte Suprema. Se invece Trump viene bloccato dagli intrighi dei bonzi di partito, lui dovrebbe uscirne e lanciare un terzo partito, un po' per pigliare vendetta e un po' per far concorrenza ai repubblicani. Magari! I danni per questi ultimi sarebbero tremendi, ma il partito repubblicano potrebbe forse formalmente sopravvivere. Bisogna puntare alla prima alternativa, dunque, quella della massima distruzione. Fra i democratici, le pretese di Hillary Clinton hanno subito un duro colpo con la sconfitta del Wisconsin, dalla quale essa esce sconfitta e ferita. Adesso la contesa si sposta verso lo Stato di New York. Il New York Times ha pubblicato un interessante servizio confermando quello che io vado dicendo da parecchi mesi, cioè che Bernie Sanders non era un candidato serio e all'inizio non pensava mica di capire la nomination. Lui voleva soltanto cambiare un po' il clima ideologico. Questa mi sembra una logica poco onesta per chiedere i contributi del popolo minuto che fanno sacrifici per lui. Bernie si è rifiutato addirittura di attaccare la Clinton per i suoi discorsi davanti ai capi della Goldman Sachs, che pagavano quasi 225 mila dollari alla volta. Bernie si è rifiutato anche di attaccare la Clinton per il suo ruolo criminale nelle destabilizzazioni dette la primavera araba. Ma adesso i nervi della Clinton, minacciata dall'incriminazione, come abbiamo visto l'ultima volta, i nervi della Clinton non reggono più e lei dice che Bernie non ha i numeri per essere presidente. Il burbero Bernie risponde picche. Lui invita la Clinton a chiedere scusa alle famiglie dei morti della guerra dall'Iraq quando lei votò a favore dell'attacco chiesto da Bush. E la Clinton chiedesse anche scusa ai milioni di famiglie impoverite colpite dalla disoccupazione provocata dagli accordi di libero scambio caldeggiati anche in questo caso dalla Clinton. Possibile che Bernie pensa addirittura di combattere? Di vincere? Sarebbe una grande novità e potrebbe anche aiutarlo ad andare alla Casa Bianca. Sulla serietà di Bernie sapremo molto di più giovedì prossimo. Quando si terrà il dibattito, il primo dibattito da un pezzo, Bernie dovrebbe puntare tutto a mettere K.O., la Clinton, con una strategia molto aggressiva. Ce la farà? Vedremo. È tutto da Washington. Arrivederci fra poco per la prossima edizione della opposizione americana. Grazie a tutti.